Sindaco, un protocollo che vuole lo sviluppo integrato del territorio? No, è veramente un'opera incomiabile del GAL Ponte Lama, veramente un fatto importante in primo luogo per la metodologia, cioè mettere insieme tutti questi enti, i due comuni di Bisceglietrani, il GAL Provincia, oggi con il suo presidente, ma anche l'ASRIL, il Tribunale, su un progetto di così importante valenza sociale è un fatto di straordinaria importanza di questi tempi. Direttore, qual è l'oggetto di questo protocollo e quali sono le parti che lo sottoscrivono? Una premessa, il GAL Ponte Lama, come del resto tanti altri GAL in Puglia, hanno contribuito al finanziamento e alla nascita di alcune masserie sociali. Cosa sono le masserie sociali? Sono aziende agricole che svolgono attività sociale, quindi di recupero, reinserimento attraverso terapie, ortoiculterapie, petterapie e quant'altro, ipoterapie e quant'altro. Le esperienze di interazione fra gli enti che si occupano del sociale e le aziende agricole e le masserie sociali sono esperienze già consolidate al centro nord, che hanno dato ottimi frutti, sia per l'attività delle aziende agricole, sia anche e soprattutto per l'inserimento di questi soggetti da fasce deboli. Stiamo replicando, adattando ovviamente al nostro territorio, stiamo replicando le esperienze fatte al centro nord per portare attraverso questo protocollo sinergie fra il GAL Ponte Lama, le masserie sociali e gli enti che si occupano del sociale. Tanto per non dire che facciamo le catetrali e le lasciamo nel deserto. Perché se sentite l'esigenza di dare vita a questa intesa? Perché era l'obiettivo da raggiungere. Noi come GAL Ponte Lama, le aziende che hanno partecipato ai bandi per questo discorso di masserie sociali, era portarle poi alla fine del raggiungimento dell'obiettivo. Perché sono aziende che comunque hanno bisogno di lavorare a progetti e chi più in questo settore, facendo l'unione di tutte queste associazioni di categoria, ASL e chi più ne ha più ne mette, riesce a raggiungere l'obiettivo quindi di far fare questi progetti a queste aziende. Grazie. Grazie.